Sì, sicuramente oggi dovevamo dare una svolta a queste nostre prestazioni perché arriviamo da due pareggi che potevamo fare di sicuro di più e quindi al di là del risultato ci ha chiesto di vedere una squadra unita sin dal primo minuto, di essere aggressivi, di aver fame, che magari era la cosa che nelle partite scorse si era vista di meno. Oggi siamo partiti bene, siamo stati uniti, compatti e quindi il risultato penso che sia meritato e siamo felici di questo. Sì, anche perché è vero che avete giocato più di un tempo in superiorità numerica, però nel momento dell'espulsione eravate già avanti 2-0, quindi la partita era già in discesa. Sì, certo, certo. Poi ovviamente l'episodio dell'espulsione magari ti aiuta a esprimerti meglio, a giocare la partita in un modo diverso, a vederla in un modo diverso. Però secondo me è proprio lo stato, lo spirito del gruppo diverso dalle scorse partite a dare un'impronta positiva alla partita già dai primi minuti. Senti, oggi giornata importante perché si è rivisto in campo Freedom League con voi della primavera. Come l'hai trovato da compagno di reparto, visto che gli hai giocato a fianco? No, lui è un buon giocatore, bravo, ha avuto questo infortunio che purtroppo l'ha tenuto lontano, ma adesso ha lavorato duro per tornare squadra, per tornare sul campo e oggi l'ho visto, ha fatto una buona prestazione, l'ho visto bene, ma all'ultimo ho avuto un po' di crampi, ma è normale perché magari i 90 minuti sono difficili da tenere, però no, l'ho visto bene. Sabato contro il Benevento, sarà importante ritrovare risultato e prestazione anche in campionato dopo i due pareggi consecutivi? Certo, certo, ovviamente dopo questa vittoria non dobbiamo sentirci arrivati a nessuna parte perché assolutamente contro il Benevento è una gara molto importante, anche se magari loro sono bassi in classifica, questo non deve interessare, noi dobbiamo affrontare le partite tutte come se fossero delle finali, da giocare 90 minuti al 100% e quindi dovremmo di nuovo fare una prestazione positiva da squadra come quella di oggi perché è importante fare punti. Grazie. 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 Grazie.